Buongiorno dal Touch per la rassegna stampa. Capriamo con il Roma, governo c'è l'accordo su Conte, premier convocato al Quirinale, ora il nodo sono i ministri, la crisi, il PD e i 5 Stelle che danno l'ok a Mattarella, oggi l'incarico esplorativo, il centrodestra minaccia la piazza. In alto lo sport, il calcio, Ancelotti che chiede un ultimo colpo al suo Napoli, l'Oriente incontra l'Inter e Hamelsen Rebus, si spera sempre in Icardi, mancano 5 giorni alla fine del mercato, si cerca un altro attaccante, intanto il Napoli si prepara. A rivedere i ex Sarri e Iguain, cocaina per 150 mila euro in un'auto, a Scampia, a Blizzini, via Gran Paradiso, sequestrati 430 grammi, la lettura intestata ad un proprietario inesistente, la sostanza purissima nascosta sotto il vano della ruota di scorta. Proseguendo, Mattarella che incarica Conte, il premier dimissionario stamane al Quirinale, tra PD e 5 Stelle resta più di un dettaglio da limare, commissario Unione Europea, la Francia che sceglie, manca solo quello dell'Italia, e l'ex Ministro della Difesa, Sylvie Goulard, federissima di Macron, l'ultimo tassello sarebbe del PD. Intanto nel Partito Democratico c'è Calenda che lascia, si teme un'altra casa dei moderati, niente che ci accomuna ai 5 Stelle. Berlusconi e Meloni all'unisono, si torni al voto, il Cavaliere torna sul centro-destra, Forza Italia indispensabile, no a sovranismi. Inoltre, nubi che restano sul governo, a cominciare dal nodo vicepremier, ridemma che non hanno dubbi, deve essere uno e non dello stesso partito. Grillo Lobbacchetta, non ministri politici, su Di Maio la base scalpita tra esecutivo e voto sulla piattaforma Rousseau. Piazza Affari attende la fine della crisi e per ora regge bene, Milano quasi piatta, meno 0.37, ebbene lo spread che scende a 175 punti, in Europa positive Parigi e Francoforte. Johnson che chiude il Parlamento, ha Brexit, la regina dice sia alla richiesta di sospendere i lavori fino al 14 ottobre, critiche dall'opposizione, Trump ai lobby UK. Greta, sbarcata a New York, attesa da 17 barche a vela, la giovane attivista svedese parteciperà al vertice ONU sul clima, poi andrà in treno in Messico, Cile e Canada. Soccorse, 100 persone alla deriva di vieto di ingresso alla Mare Ionio, il salvataggio, la nave ha salvato un equipaggio di donne e bambini, ma Salvini ha subito firmato il provvedimento. Proseguendo, l'attitante rumeno preso nell'agro Aversano, cercato in tutta Europa da un anno e mezzo, era stato condannato per violenza sessuale sul minore. La fake dei 10 mila euro per superare il concorso, la lettera diventa virale, la regione è costretta ad intervenire con una nota ufficiale. Denunciate se avete notizie fondate, un posto su Facebook, denuncia senza fonti, presunte richieste per i 2 mila posti del piano regolare, piano regionale del lavoro. Inoltre, grillo razzista monta la rivolta, il caso, continuano le repliche sdegnate all'inferice uscita del comico, De Luca lo definisce vergognoso. Danno d'immagine, pronta la querela, l'avvocato Pisani è un ignorante, come Saviano parla senza conoscere. Illuminazione pubblica, Napoli città virtuosa per minore spreco, lo ha sancito uno studio dell'osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Borriello commenta, abbiamo dei punti di forza che ci portano in vetta. Intanto, notizia di Napoli, che sarà teatro dei campionati assoluti di scherma olimpica e paraolimpica, ospiterà nel giugno 2020 i campionati italiani assoluti, Occhiuzzi presiede il comitato organizzatore. Rifiuti partono i primi sopralluoghi per individuare i siti di stoccaggio, domani i rappresentanti del comune della Sapnaica iranno per individuare le piazzole, Caccotucci siamo pronti, ci preoccupa di più la cattiva differenziata. La prima nazionale di Repubblica sul potenziale governo, Coraggio Conte sarà dura, Di Maio non rinego il lavoro fatto in questi 14 mesi con la Lega, vogliamo completare quello che abbiamo iniziato nel marzo 2018. Zingaretti, proviamoci, svolta e discontinuitare parole chiave, basta con l'odio e la paura, non è una staffetta ma una nuova sfida. Due visioni distanti, Vice Premier e programma i primi ostacoli. C'è l'accordo tra 5 Stelle e PD, Via Libera al Conte Bis, Grillo, Ministri non politici, oggi il Premier riceverà da Mattarella l'incarico di formare il governo, poi squadra e programma. Il giuramento entro sette giorni è Di Maio conferma, la Lega mi ha offerto la presidenza del Consiglio, l'idea del Premier, nessun vice, Zingaretti per la svolta vuole interno ed economia. Discontinuità, non rinnego i discorsi opposti dei due leader, abbiamo confermato a Mattarella l'esigenza di costruire uno governo di svolta e discontinuità, non c'è nessuna staffetta da proseguire, nessun testimone da raccogliere ma una nuova sfida da cominciare. Le parole di Zingaretti, segretario PD, non rinnego il lavoro degli ultimi 14 mesi, il nostro programma è lo stesso, quello votato da 11 milioni di italiani, siamo sempre stati un movimento post-ideologico, per noi non esistono soluzioni di destra o di sinistra, il commento invece del leader 5 Stelle Di Maio. Il quasi Premier che ha castigato gli spacconi la vittoria di Conte fu incaricato nel 2018 doveva essere il vice dei due vice Di Maio e Salvini, ora guiderà un governo di sinistra dopo averne guidato uno di destra. Forza Italia, Berlusconi, noi all'opposizione, no ai sovranismi. che dirà Rousseau, la mossa di Di Maio, un quesito sfumato per blindare il patto. Lo scoglio del referendum tra gli iscritti che deve confermare l'intesa con il PD, doppia rivolta contro il capo, governisti e anti, paragone pronto a lasciare. Il leader tormentato dall'alleanza con gli odiati Dem, appena un mese fa Di Maio non aveva l'idea della trappola che gli avrebbe teso il destino, un dietro fronte sul partito di Bibiano. L'oracolo di Casaleggio è la scatola nera della democrazia, la piattaforma dei 5 Stelle, il sistema operativo del movimento, la piattaforma Rousseau. Il PD unito alla meta, Zingaretti rilancia subito alleanze nelle regioni, standing ovation per la relazione del segretario in direzione. L'unico no, arriva da Ricchetti, vicepremier, sfida aperta tra Orlando e Franceschini e Renzi vuole tre ministeri. Calenda, un lutto lasciare il partito, ne fonderò un altro. La prima cosa che farò è andare nelle feste dell'unità a spiegare la mia scelta agli elettori che mi hanno mandato all'Europarlamento. Non ho un piano dettagliato pronto, Renzi farà la scissione, farà quel che gli conviene nel momento in cui gli conviene. Lo sport, ricca Champions, al via il talent delle nuove star, Joao Felix, Sancho De Ligt e la sfida ai vecchi messi Neymar e Ronaldo. Oggi il sorteggio con l'incubo delle inglesi anche per il Napoli, chi rischia di più è l'Inter in terza fascia. Sanchez, l'ultima perla, Conte ha chiuso il puzzle per i nero-azzurri, dettagli ovviamente anche relativi al Napoli che inseguiva Llorente e che sogna comunque Mauro Icardi. Lasciamo anche le pagine nazionali di Repubblica per le pagine riferite a Repubblica Napoli. Medicina, corsa alla facoltà, oltre 6.000 ai test d'accesso. L'arte nei negozi, via Pasquale Scura in un percorso espositivo di opere da ammirare nelle botteche fino a sabato. De Luca, Grillo, si vergogni, a scampia migliaia di onesti. Indignazione per un post del leader dei Cinque Stelle, il presidente della circoscrizione Pai Pais. È un mio dovere valutare una possibile querela. I dettagli con il servizio. Mentre a Roma si lavora per smussare gli angoli e provare a raggiungere l'intesa tra PD e Movimento 5 Stelle, a Napoli un post pubblicato da Beppe Grillo scatena una nuova polemica tra le due formazioni. L'espressione relativa ad un Parlamento con più ladri che a scampia ha fatto insorgere il governatore Vincenzo De Luca. Vergognoso il riferimento a scampia di Grillo, il commento affidato a Facebook. È giusto il caso di ricordargli, aggiunge il presidente e la giunta regionale, che nel quartiere abitano decine di migliaia di persone per bene e oneste che meritano rispetto e non le offese dei miliardari impegnati tra una villa e l'altra. Anche Napoli ha reagito con rabbia con il presidente dell'ottava municipalità del capoluogo partenopeo, che ha annunciato querela nei confronti dell'ideologo 5 Stelle. Sono affermazioni gravi quello che fa il capo del movimento politico del Movimento 5 Stelle verso non soltanto scampia, ma verso tutto quel popolo di napoletani per bene che lavorano quotidianamente per il riscatto di un territorio. Grillo dimentica o non sa, sicuramente non sa, che su questi territori ci sono tantissime eccellenze. Le parrocchie che lavorano per il territorio, presidi, dirigenti scolastici, associazioni sportive, tante eccellenze che fanno in modo da lavorare per un obiettivo comune, il riscatto. In queste ore ho dato mandato ai miei avvocati per sapere se ci sono gli estremi per una querela, perché non è giusto mortificare i cittadini e le istituzioni locali. Quindi chiedo ufficialmente come Presidente della Municipalità Ottava di Napoli, quindi scampia, Piscino, Lamarinello e Chiaiano, le scuse? Le reazioni con i 5 Stelle ma senza entusiasmo, il siso offerto del PD napoletano, medicina oltre 6 mila in gara e test. Ragazzi partecipate con entusiasmo, il 3 settembre le prove d'accesso alla facoltà, i candidati sono 4.660 alla Federico II per 507 posti disponibili e 1.700 alla Vambitelli per 500 posti tra Napoli e Caserta. Il Presidente della Scuola, Califano, serve impegno. Lì di in città i bagnanti calano del 20%, prezzi troppo alti e trasporti carenti, da Fosilipo a Marechiaro meno abbonamenti cambiano le abitudini dei napoletani. Ma ci salvano i turisti, dicono i gestori. Per un ingresso con rettino si pagano anche 25 euro a persona nei weekend. Boschi di cui si sana, rimossi i rifiuti, ora più controlli, Castella a Mare, il Sindaco invita la ditta della nettezza urbana, invitiamo i cittadini a denunciare chi sporca. L'arte nei negozi, mostra collettiva tra frutta e detersivi. Nacilo di Bari con le sedie girevoli da vecchio film si entra in una barberia che sembra di un secolo fa. Lo sport, il calcio, Ancelotti che riparte dal tridente. Supersfida alla Juventus, Milic ancora incerto, Lozano in panchina, in campo i tre piccoletti, De Laurenti si insiste su Icardi, messo alla porta dall'Inter, aspetterà fino all'ultimo il sì o il no. L'attesa di Llorente e l'ok dell'Atletico Madrid per il prestito di Diego Costa, ma c'è il nodo ingaggio esagerato, 10 milioni di euro all'anno. Champions alle 18, il sorteggio in diretta, Zurri in seconda fascia, ma una biga è certa, Barcellona, Bayern o una inglese. Pagine nazionali del mattino, torna Conte, sfida sui ministri, via libera di Zingaretti e Di Maio, oggi Mattarella dall'incarico, la richiesta, Premier e non garante. Il capo 5 Stelle non rinnego il lavoro con la Lega, la mossa di Grillo, né di Casteri Chiave, solo tecnici. La trattativa, oggi l'incarico a Conte, Grillo, ministri tecnici, chiusa le consultazioni, ok di Grillini e Dem, il Premier alle 9.30 al Quirinale, il post del fondatore del Movimento, niente politici nei ministeri, ma poi corregge il tiro. La richiesta di Mattarella, Premier e non garante, il Quirinale suggerisce a Conte un cambio di passo rispetto all'esperienza giallo-verde, il capo dello Stato vuole presentare al Paese un governo saldo e legato all'Unione Europea. L'esecutivo dura fino al 2023, Rousseau li convincerò io, l'avvocato sicuro, il mio non sarà un governo di transizione fondamentale, non ho la Lega e poi la lunga attesa a Palazzo Chigi, le telefonate con Grillo, resta il gelo con Di Maio. Verso il nuovo governo, l'ipotesi di azzerare i vice, resta il nodo Di Maio che rischia anche la difesa, il PD chiede MF, Viminale e Esteri, se resta Bonafede torna pure Minniti, il Premier potrebbe sciogliere la riserva lunedì, poi voto di fiducia. Il Toto Ministri, un esterno per il Tesoro, spuntano di Eclin e Rossi, da oggi la partita entra nel vivo, al PD un vice o il sottosegretario, all'interno torna la carta Minniti, giustizia Bonafede potrebbe restare. Zingaretti unisce il PD, intese nelle regioni, strappo di calenda, la direzione ok al leader sull'intesa, con i grillini, non soltanto da Richetti, l'eurodeputato traditi i valori, il segretario ripensaci, ci servi. Noi renziani restiamo fuori dal governo, le querele ai grillini sono confermate, l'intervista a Maria Elena Boschi. Le spine dei Cinque Stelle, Grillo avverte Di Maio non inseguire poltrone, rivolta anti-Rousseau, nuove tensioni, poi la telefonata, fatta filtrare dallo staff del leader, nei gruppi le critiche al capo per la scelta della consultazione. La parabola dei Cinque Stelle, va bene Cinque Stelle in attesa di un capo, un tempo la guida era solida nelle mani del fondatore Grillo, il garante ha invitato i suoi a rinunciare a tutte le poltrone. I tre del centro-destra vanno in ordine sparso, Gelo Berlusconi Salvini, il ministro e il cavaliere Meloni chiedono a Quirinale le elezioni, ma le prospettive restano distanti dall'ex premier attacco ai sovranisti. Andiamo anche con le pagine interne riferite alle province. Napoli, quota 100, la maxifuga dei medici di famiglia entro l'anno chiudono 300 ambulatori, emergenza in periferia, medici di famiglia in fuga chiudono 300 ambulatori, emergenza pianura, buchi nella rete domiciliare in periferia, i sindacati, ci sono gravi carenze, l'assistenza di base sta per saltare. Le carenze nei piccoli comuni, assistenza già saltata, il Presidente dell'Ordine a Capri si va avanti con incarichi a tempo, vanno rifatte le graduatorie, molti hanno già trovato un lavoro. Il retroscena, regionali Zingaretti, patto con i 5 Stelle, il Segretario apre alle intese elettorali e cita anche la Campania, scenario nuovo, in Sala De Luca ora sarà più difficile continuare la guerra contro i grillini. Piano rifiuti, la rivolta di Caivano, assemblea organizzata da partiti e comitati, oggi non c'è colore politico, siamo tutti dalla stessa parte, anche il PD contro il progetto De Luca che prevede l'invio sul territorio di 15 mila tonnellate di ecoballe. Era stanco e ferito, ecco perché ho deciso di aiutare le vaso, la fuga da poggio reale, al via ai primi interrogatori, parla l'autista che scortò Lisowski, 11 chilometri da Piazza Poderico fino alla casa del pastore evangelico. Vigili sul bus rischio, stop alla violenza, patto tra l'azienda e il comune, agenti anche nella metropolitana, esposito, un servizio volontario oppure dare sicurezza all'utenza. Il giallo, romina, nuova pista, sarà decisivo il DNA, interrogati gli ex soci del padre, scomparso dopo la morte della figlia, per la 19enne dei Camaldoli, uccisa nel 2004 ad Aversa, si torna a sperare. Pescatori spazzini nelle aree protette per salvare il mare, parte il remare, azione coordinata nei quattro parchi marini campani, barche attrezzate per la raccolta dei rifiuti da smaltire poi a terra. Ci trasferiamo ad Avellino, bilancio la sfida di festa, il sindaco replica l'opposizione di Cipriano, il predissesso al Tar, perderanno di sicuro. Per il calcio, polizia in arrivo, i lupi cercano un bomber, De Cesare deve soldi anche al comune, paghi mezzo milione di diritti sul gas, il caso. Festa, il predissesto, Cipriano vada al Tar, perderà di sicuro, il sindaco replica l'opposizione, piano legittimo, lo impugnino pure, la fondo in Salsadem, dicono di essere il vero centrosinistra, io penso alla città. Dettagli con il servizio. E scontro aperto nel centrosinistra, ad Avellino serrano i ranghi, i sette consiglieri che ruotano intorno al leader di mai più Luca Cipriano, che chiedono la composizione in tempi brevi ed immediati delle commissioni, impugnano la delibera degli equilibri di bilancio e l'approvazione del predissesto. Atti illegittimi, secondo i sette consiglieri, che rimarcano di rappresentare il vero centrosinistra di Avellino. D'accanto suo si dice sereno, invece il sindaco Gianluca Festa, sulla procedura adottata. Per quanto ci riguarda abbiamo approvato un piano di riequilibrio che consente alla città di potersi rialzare. È un piano che intende scommettere su Avellino e sugli avellinesi. E alle accuse di Cipriano di troppa leggerezza e attenzione ad eventi e manifestazioni, anziché alle questioni serie del palazzo, il sindaco Festa risponde. Magari è un po' troppo nervoso in questa fase, è un po' troppo arrabbiato che partecipassse un po' di più alla vita cittadina. Abbiamo finalmente ridato una speranza e tanta gioia alla nostra comunità. Mi spiace che non sia arrivata questa felicità anche a lui, ma lo invito a fare un bel sorriso e a guardare con più speranza e prospettiva alla vita e a non perdersi dietro queste polemiche che credo non lo porterebbero lontano. I servizi in città, la lunga coda per l'abbonamento al bus, mattinata da incubo per centinaia di utenti in fila, lo sportello di Via del Balzo, attesa anche di tre ore, l'ira di studenti e pendolari, siamo arrivati all'alba, ma ogni anno è la stessa storia, l'AIR deve organizzarsi. L'allarme dei sindacati, i salari degli operai a rischio, l'alternativa è il dettaglio degli organici domani d'incontro con l'amministratore, la Serino Pelosi Cambin giunta a Concordati, il sindaco respinge la posizione dell'ex assessore Rocco che ha lamentato un'estromissione ingiustificata e poi torrente inquinato, Tolino ora basta. Il vice sindaco di Montoro chiede un confronto urgente alla regione, rilancia le accuse contro i continui sversamenti conciari, a vuoto finora la proposta di aprire un tavolo permanente preoccupano i risultati dei prelievi ARPAC nel corso d'acqua. Andiamo a Benevento, rifiuti, sconti, tariffe e piano, il Presidente Di Maria dopo intesa con la regione giù la quota pro capite e svolta sante, per il calcio dopo tuia, capovolta e allarme difesa, dalle notizie in alto, scoppia la bertemania, migliaia al concerto in piazza della Rockstar, città, spettacolo, l'evento migliaia in piazza, la star dal palco accenna alle donne, ognuno deve vivere la vita che vuole, persone di ogni età assiepate fin dall'ora di cena per il concerto. Certo, rifiuti, cambiano tariffe e piano, Di Maria dopo accordo in regione sarà possibile rivedere la quota di 14,57 Euro pro capite, condivisione di Forza Italia, Ministro Italiano, poi Fratelli d'Italia, nel vertice in provincia, critico Ricciardi Lega, aree interne penalizzate. Attesa svolta per Sam, te ipotesi part time sale al 50%, Agostinelli, la commessa, Sapna migliora lo scenario, i sindacati chiedono prospettive future, oggi previsto sit-in. Caso Forza Italia, Sguera, Stoccol, sindaco, solo critiche costruttive, servizi cimiteriali fuori dall'impasso, ecco, recuperi, rinuncia, aggiudicazione revocata, l'affidamento passa alla Serino Nicola, Maio, sindaco faccia chiarezza, pepe, comune, sempre aperto. Di Sesto, Paolisi, nuova sise, tasse alle stelle, maietta, eredità di chi ci ha preceduto. Poi la Madonna della Sanità, festa tra fede e tradizioni, guasto al Rummo, rischio caos, al Moscati di Avellino, dettagli con il servizio. L'ospedale Rummo di Benevento è di nuovo alle prese con i problemi all'unico angiografo della struttura ospedaliera per effettuare coronarografie angioplastiche. Il macchinario è guasto e ciò ha causato che da fine luglio l'azienda ospedaliera San Pio è momentaneamente uscita dal circuito della rete IMA. C'è da dire che l'ospedale San Pio non sarebbe comunque in regola e sarebbe di fatto estromesso dalla rete IMA in quanto gli angiografi previsti dal decreto 64 per l'assetto della rete emergenza sono due, non uno. I pazienti con infarto miocardico acuto saranno trasferiti tramite il 118 al Moscati di Avellino. L'UTIC cardiologia del Moscati si troverà così a sopperire alle carenze strutturali e organizzative del nosocomio sannita. È costretto a sopperire una macroarea di circa 713 mila abitanti e anche le distanze perché il 118 impiegherebbe il tempo che è prezioso in questo caso. Il nursing è preoccupato di questa situazione poiché si andranno ad incrementare i carichi di lavoro di una unità operativa di cui si segnala già da tempo una grave carenza di personale infermieristico. Mancano all'appello 16 infermieri e 12 OS quindi è una situazione che ci preoccupa. Abbiamo già fatto una nostra comunicazione ai vertici del Moscati che si sono appena insediati e speriamo che accolgano le nostre richieste con un prevedimento anche d'urgenza. A Caserta stop Acerra, rifiuti al nord. I presidenti Maiocca e Mirra di provincia Eato hanno trovato nuovi impianti fuori regione. Si spera di non dover stoccare in loco durante il periodo di fermo dell'impianto campano. Stop di Acerra, scatta il piano B della provincia ai conferimenti verso il nord e all'estero per 20 mila tonnellate. Superate le indicazioni della regione si spera di non dover stoccare in loco. Il tiglio di 400 anni, obelisco naturale del burgo di Asola, il parroco, curiamo questa pianta come un bambino grazie ad esperti. La fonte di Alfonso Maria De Ligori targa in ricordo del cavaliere Maggiò. Cento bare accatastrate nel cimitero, il giallo e le accusi all'ex sindaco. Tocco la siscaia contro De Cristofaro e parla di illeciti. La replica se ne è certo, denunci tutto alle autorità. Caso ad Aversa. Romina interrogati i soci del padre, la ragazza scomparsa e uccisa nel 2004, indagini riaperte dopo quanto scoperto dall'investigatore privato assoldato dallo zio. In procura, gli uomini di Casal di Principe attraverso i quali l'uomo inviava la figlia a soldi dalla Germania, tre gli indagati. Andiamo a Salerno, rifiuti nel sito dimenticato, stop ad Acerra, l'impianto di polla non ancora pronto per ospitare la spazzatura, l'ambiente, erba alta e cancelli chiusi dal 2015. Servono lavori urgenti e l'ok del curatore fallimentare. Il centrale in prestito dalla Fiorentina, Granata un mese by night, in difesa c'è Lander Pinto. Incubo parcheggi, niente lungomare, ira commercianti, stop dal comune alla proposta per arginare l'emergenza a posti, i gestori del centro, nel periodo delle luci, serve una valvola di sfogo. I rifiuti di Acerra, nel sito dimenticato, ma non è pronto, stop inceneritore, polla ospiterà 2000 tonnellate di spazzatura, ma c'è erba alta, mezzi abbandonati, servono lavori e il sì del curatore. Cilento e Costiera, pescatori spazzini, arrivano le bacche per salvare il mare, parte Remare, azione coordinata nei quattro parchi marini campani per ripulire i fondali e portare via la plastica. La politica e la retroscena, anche su Salerno, le regionali, ottica campana, Zingaretti, patto con i 5 stelle. La prima di cronache, dai De Luca, via libera a Conte, padre e figlio Otano, sì, nella direzione del PD per l'accordo con i 5 stelle, stamane l'avvocato del popolo da Mattarella per ricevere l'incarico verso il nuovo governo, Fagani e Scaffati, unite per Tonino, venerdì due manifestazioni per ricordare il sindacalista ucciso dalla Camorra. andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it diffondono video hard di una sedicenne in rete, Bulli nei guai, una storia molto delicata che riguarda minori e sulla quale sta indagando la polizia. In migliaia per Loredana Bertè, vi amo, siete bellissimi, la regina del rock italiano conquista il pubblico del festival, la libertà di parlare al cuore del suo pubblico senza filtri, tra nostalgie, ricordi, confessioni e segreti svelati, l'abbraccio forte di Benevento Città Spettacolo che ha riservato un'accoglienza calorosissima alla regina del rock italiano Loredana Bertè che ieri sera ha infiammato il pubblico di Piazza Castello per una delle tappe del suo Liberté Summer Tour 2019 con il quale sta conquistando il paese. Ancora dall'apertura la cronaca due auto in fiamme lungo la 16 Napoli Bari, paura ma fortunatamente nessun ferito, due auto in fiamme lungo la 16 Napoli Bari, paura ma fortunatamente nessun ferito. È successo nel tratto autostradale che da Avelino Ovest porta a Baiano, il primo si è verificato intorno alle 16 nel territorio del comune di Monteforto Irpino in direzione Canosa, il secondo subito dopo le 19 ma all'altezza del comune di Baiano in direzione Napoli. Le fiamme che hanno avvolto entrambi i veicoli sono state spente nei mezzi messi in sicurezza sul posto i vigili del fuoco della centrale operativa di Avelino e gli uomini della Polstrada. Nel dettaglio anche le sezioni da Napoli con le ultime De Luca vergognoso il riferimento a Scampia di Grillo mentre a Roma P10 e 5 Stelle formano il governo a Napoli il governatore De Mattac e il leader Penta Stellato. Napoli prima per il minor spreco di energia elettrica il dato energia dallo studio dell'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano. A Salerno la tragica morte di Raffaele una comunità a lutto San Valentino Torio piange il 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale con Tursi Terme proseguono i lavori della Fondovalle Sele necessari per lo svincolo e il collegamento all'area industriale alla pipia alla zona termale ad Avellino la sinistra torni protagonista festa l'estate finirà Giancarlo Giordano chiama raccolta le forze progressiste della città a Benevento precisamente da Sant'Agata dei Goti violento scontro tra due auto donna in codice rosso impatto alle porte del comune tra una Smart ed una Fiat Stilo tre i feriti è tutto dal Touch l'informazione torna alle 11 con il Touch alle 14 con il TG grazie a Aldo Fenizia in regia e a voi che ci avete seguito grazie a tutti